Ho accettato di fare questo percorso perché sono nato con la lancia e voglio affrontare questa esperienza come se avessi la lancia in mano. Gabriele Veneri, da ex giostratore, usa proprio la similitudine con la giostra del Saracino per annunciare la sua corsa. Nelle liste regionali di Fratelli d'Italia sarà lui il capolista. Veneri, imprenditore orafo conosciutissimo ad Arezzo, ha dunque deciso di dedicarsi alla politica e ha lasciato il suo incarico di presidenza degli orafi all'interno della CNA. Le proposte per il mondo orafo e per l'economia aretina non mancano. Le proposte sicuramente sono quello di alimentare e di sostenere appunto il tessuto produttivo orafo aretino e metterlo ancora più in mostra, aiutarlo a promuovere e a creare sinergie. La regione sicuramente ha un forte valore e una forte influenza in queste scelte politiche di un sistema che invece probabilmente a livello regionale è stato un po' trascurato. Noi nell'impresa siamo abituati a avere un problema oggi e cercare di risolverlo al massimo domani perché altrimenti rischiamo e rischiamo del nostro e rischiamo soprattutto anche la carriera dei nostri collaboratori. Credo che nella politica vada portato un po' di dinamismo e un po' di velocità nelle scelte. Tutti hanno paura di sbagliare e quindi non fanno nulla. Io proverò a non sbagliare, però proverò a fare. L'annuncio e la presentazione di tutti i candidati è avvenuto in una conferenza stampa che ha visto la presenza di Francesco Macri e dell'Onorevole Donzelli. Noi abbiamo scelto ovviamente i dirigenti di partito ma anche persone della società civile importantissime. Abbiamo quindi una lista che è rappresentativa sia di Fratelli Italia, di chi si è sempre impegnato nel nostro partito ma anche di persone che fino ad ora non avevano mai scelto di impegnarsi in politica e per la prima volta scendono in campo, come si suol dire, per dare una mano ad Arezzo e alla regione toscana. Ovviamente Fratelli Italia è importante in questa tornata non solo perché la danno tutti in crescita ma perché potrebbe far scattare un collegio in più ad Arezzo. Quindi Arezzo potrebbe avere, grazie a Fratelli Italia, se viene suffragata da un buon consenso, potrebbe avere una rappresentanza in più in Consiglio regionale. Quindi un'importanza doppia per gli aretini. E che Toscana dovrà essere allora secondo Fratelli Italia? Una Toscana capace di dare risorse, merito e possibilità di correre alle nostre imprese. La regione toscana potrebbe essere la locomotiva non solo del centro Italia ma di tutta Italia invece rischia di correre insieme per il primato delle regioni economicamente più lente rispetto alle regioni del sud Italia. Una regione su cui è necessario investire, sulle piccole e medie imprese, sull'artigianato, tutti i settori che la sinistra ha trascurato e ignorato perché è troppo attenta a una logica imprenditoriale che è quella del Novecento fatta di padroni, operai, sindacati, logiche ormai che sono superate ma che invece Rossi, il PD, il centrosinistro, i geniogiani hanno ancora a cuore.